L'affluenza e le grandi masse che si spostano oggi ancora ci portano ad essere la prima regione d'Italia per R.T. All'inizio del fine settimana che con il Ponte dell'Immacolata apre la corsa al Natale, le notizie fornite dal presidente della regione Zaia non sono delle migliori, seppur in calo l'indice odierno di contagio del Veneto 1,11 è il più alto d'Italia. Noi siamo fortemente preoccupati perché ci aspettiamo e ci dovremmo aspettare delle curve che comincino a virare. E non si cerchi la giustificazione, prosegue il governatore, nel fatto che il Veneto è sempre rimasto in zona gialla. Il Veneto è in zona gialla perché è virtuoso nei 21 parametri, è in zona gialla perché ha saputo gestire bene la condizione sanitaria, ma oggi la pressione si sente, con 3.100 pazienti la condizione si sente. L'appello che Zaia rivolge ai cittadini per l'ennesima volta è quello di evitare gli assembramenti in questi giorni di avvio dello shopping natalizio. Purtroppo noi vediamo che ci sono fiumi umani che si dirigono verso i centri cittadini. Per non parlare delle migliaia di turisti diretti verso le località di montagna nel pieno dell'allerta meteo. E un appello lo devo fare sul fatto della movimentazione in montagna, state fermi, state casa. Vedere i serpentoni di persone che nonostante l'allerta meteo si dirigono verso la montagna, ci chiediamo che senso ha. È amareggiato Luca Zaia, sottolineando come nonostante tutte le raccomandazioni ci sia la gente in coda che si spintona per entrare nei grandi magazzini. Certo è che se dovessimo ancora mettere mano ad ordinanze per continuare ad intervenire sugli assembramenti vuol dire che qualcosa non funziona. Vuol dire che forse c'è una parte di popolazione che non ha capito quali siano le condizioni nelle quali ci troviamo ad operare.